Nonostante i solleciti ad oggi vertici del Consorzio di Bonifica e del Dipartimento Acqua e della Regione Siciliana, non hanno ancora soddisfatto l'esigenza degli agricoltori del vasto comprensorio di Ribera, finalizzata ad ottenere le due irrigazioni di soccorso concordate per salvare le culture. Lo denuncia il Comitato, insieme per l'acqua, evidenziando come le mancate risposte degli enti competenti stiano determinando il fallimento delle aziende agricole. Comitato che evidenzia la responsabilità nel mancato invasamento delle acque della fiume Verdura nella diga Castello tramite la bretella di collegamento e come di fronte a quella che ritengono sia una grave inadempienza si registra anche il silenzio delle associazioni di categoria. Al Governo regionale viene chiesto di intervenire urgentemente, anche con provvedimenti di sostituzione dei dirigenti, ma il Comitato oggi si dice pronto anche a formalizzare una denuncia presso le procure di Sciacca, Grigento e Palermo finalizzata ad accertare le eventuali responsabilità penali per tali inadempienze con riserva poi di costituirsi anche parte civile nell'eventuale processo. Di più, annunciano sin d'ora di voler agire per la richiesta di risarcimento danni per le aziende agricole del comprensorio di Berese che senza l'irrigazione di soccorso con i 2 milioni di metri cubi di acqua promessi sono condannate al fallimento.